Salve a tutti, buonasera, benvenuti a questa seconda puntata, a questo secondo appuntamento con la Digital School di Aruba.it Business. Già abbiamo visto nella prima puntata con Marco Quadrella argomenti molto interessanti su GA4 e appunto il suo avvento e i cambiamenti che comporterà per tutti noi. In questa Digital School, che sono cinque appuntamenti, ricorderò poi brevemente, tentiamo di fare appunto un percorso attraverso strumenti, consigli e pratiche del digital marketing moderno e di quello che arriverà appunto in futuro. Come detto, sono cinque appuntamenti, il primo è stato il 28 settembre, e oggi parleremo invece di inbound marketing, come appunto, avremo poi il 30 novembre strumenti gratuiti by Google di Giorgio Taverniti, a seguire un altro appuntamento su PR, Digital PR, un confronto parallelo molto interessante e attuale, sempre da parte di Giorgio Taverniti, per poi andare a chiudere il 15 gennaio con un appuntamento, anche questo, come il primo, anche l'ultimo, su temi molto molto scottanti, che sono appunto first party data e zero party data, appunto tutto quello che riguarda il digital marketing e la privacy e le rivoluzioni che ci stanno appunto attorno di questi temi. Ma appunto oggi invece ci concentreremo su inbound marketing e CRM, strategie per generare valore e tutto quello che appunto ne consegue. Chi mi conosce sa che quando parlo di strategie e di strumenti o di parole chiave che girano, diciamo buzzwords che girano spesso, sono abbastanza critico e lavoro in maniera abbastanza trasversale e anche oggi non sarà diverso. Di cosa parleremo oggi? Parleremo appunto, faremo una carrellata e andremo anche poi nello specifico, parleremo di inbound, che cos'è per davvero, tenteremo di capirlo al di là appunto della parola che torna come tante anche buzzwords nel nostro ambito, parleremo di contenuto e rilevanza che sono poi il cuore effettivo dell'inbound marketing, canali, vari canali da utilizzare, il ruolo delle automazioni, il pericolo delle automazioni e quello che ne consegue, analisi e segmentazione, altre due parti fondamentali insieme ai canali di automazioni che definiscono in tutto l'inbound marketing e poi come mi è consueto dubbi e limiti di queste pratiche e anche appunto una parte finale sugli strumenti e su quello che appunto si può mettere in pratica fin da subito. Come al solito il format di questi webinar prevede appunto una carrellata di un mio solo ruocio per circa un'ora o un quarto, dopo di che ci sarà spazio anche per le vostre domande per cui mi invito fin da ora dopo a andare a pensare, a segnalarle, per andare poi a scrivere nella chat e poi le leggerò e tenterò per quanto mi è possibile di rispondere. Dunque, partiamo subito con l'inbound, che cos'è per davvero. Prima di tutto l'inbound marketing non è un'invenzione geniale, nei fatti è il perfezionamento, lo vedremo, di una serie di pratiche e una serie di pensieri che nel corso degli anni sono stati portati avanti e un impacchettamento commerciale appunto di questi pensieri. però nello stesso tempo non è una buzzword qualsiasi perché come andremo a vedere la pratica dell'inbound marketing potrebbe cambiare radicalmente l'approccio non solo alla vendita ma l'approccio proprio anche alla sinergia tra le varie parti dell'azienda e il modo in cui comunicano tra di loro e in cui appunto anche si stabiliscono gli stessi prodotti e servizi che vengono venduti. Nello stesso tempo dobbiamo essere chiari, non è la panacea tutti i mali e soprattutto non è una formuletta o un software o una serie di software che possa essere presa, applicata e risolvere tutti i problemi che abbiamo. E nello stesso tempo però, sebbene sia nata come impacchettamento commerciale di uno specifico prodotto, non è, o non è solo, uno o più strumenti. Ma vediamo un po' che cos'è l'inbound marketing da parte di chi l'ha inventato. Per chi non lo sapesse questa parola salta fuori tra il 2006 e attorno al 2006 da parte di HubSpot che è un CRM molto famoso, qualcosa di più diciamo, un CRM barra marketing hub molto famoso che ha inventato questa parola, la definizione qui in inglese ma in poche parole appunto parla di hub marketing è una metodologia di business che attrae clienti creando contenuto di valore ed esperienze disegnate attorno appunto, attorno a loro, attorno ai loro bisogni e necessità. Mentre l'outbound marketing interrompe l'audience con contenuto che non sempre è voluto o desiderato, l'interruption marketing appunto, l'inbound marketing forma una connessione o delle connessioni per le quali loro stanno, che l'utente sta effettivamente cercando e risolve problemi che l'utente ha già, per cui non crea di base nuovi problemi o nuove aspettative. Le parole chiave appunto sono una metodologia di business e questo è fondamentale, non è una metodologia di marketing, coinvolge il business tutto quanto assieme. Attraesi i clienti attraverso, e questa è la parola chiave molto importante, contenuti di valore ed esperienze che formano connessioni e questo connessioni che però gli utenti stanno già cercando, per cui l'utente è già predisposto, non è una serendipity o comunque un'introduzione che mi fa nascere un nuovo desiderio, è una cosa diversa. Però diciamo non è roba nuova per chi mastica un po' di queste cose, gran parte di questi concetti arrivano da un po' prima. Nasce appunto in opposizione all'interruption marketing ed è figlio diretto del permission marketing, che conosciamo tutti, qui l'accettazione di Godin è molto chiara. Permission marketing è la via per trasformare gli sconosciuti in amici e gli amici in clienti. E tutto questo chiaramente nell'inbound marketing esiste e viene esteso in maniera coerente. È chiaro che oggigiorno il permission marketing e in generale appunto anche l'inbound marketing, soprattutto con le difficoltà nel tracciamento degli utenti, causa appunto una presa di coscienza non solo degli utenti ma anche proprio del legislatore del concetto di privacy, diventa sempre più difficile, per cui diventa difficile tracciare gli utenti senza che gli utenti sappiano che noi li stiamo tracciando. E quindi il permission marketing, l'inbound marketing, creare connessione di valore e fare in modo che l'utente stesso, lo vedremo poi nell'ultimo appuntamento, volontariamente ci dia dei dati, sono parti fondamentali che dovranno entrare in gioco nelle strategie dei prossimi anni, senza le quali non potremmo andare a ottenere risultati che magari abbiamo ottenuto negli anni scorsi con una perversività dell'advertising fatta appunto sulla navigazione degli utenti che non è più possibile o non sarà più possibile fare in maniera così precisa e puntuale. Ma che cos'è che fa l'inbound marketing? Sostanzialmente reinventa la ruota. Allora siamo stati abituati negli anni scorsi a parlare costantemente, ancora parliamo di funnel che è un modello semplificativo sicuramente di quello che accade in un processo, in un customer journey, in un processo di vendita, ma che è un modello che molte volte è utile per fare strategie e fare in modo che queste funzionino e fare anche analisi sulle strategie. Il funnel però appunto ha un inizio, è una fine. La ruota, la flywheel che è stata inventata da Hotspot e posta appunto come cardine dell'inbound marketing non è più un funnel, è una ruota. Perché? Perché anche rispetto al permission marketing che mi diceva che voleva trasformare lo sconosciuto in un amico, un prospect, un lead, qualcuno che conosco, comincia a conoscere per poi trasformare in un cliente, l'inbound marketing si propone di andare un po' più avanti e andare a trasformare i clienti in promoters, per cui qualcuno in grado di far girare almeno un po' la ruota anche per conto nostro. E come fa? È un superamento del modello funnel. Sicuramente il modello circolare da certi punti di vista è più vicino alla realtà per quanto semplicistico. È vero che, come ho detto anche altre volte, dal funnel si entra e si esce, come dalla ruota si entra e si esce, si può rientrare in un qualsiasi altro punto senza appunto soluzione di continuità. Però fa anche del nurturing continuo, per cui della cura continua non solo del prospect, ma anche del cliente, per cui qui entra proprio il concetto di CRM come punto fondamentale, fa una strategia di coinvolgimento del proprio DB e quindi uno strumento di crescita. la cura continua del cliente, del prospect, ma anche dello straniero che si è avvicinato, del sconosciuto che si è avvicinato, diventa appunto punto di svolta. E in ogni caso stimola la collaborazione fra i vari reparti aziendali che a questo punto tra customer care, tra marketing, tra sviluppo del prodotto e del servizio, sono costretti a parlarsi e confrontarsi su dati e contenuti. Quindi non è differente sostanzialmente la flywheel dagli altri strumenti di marketing e diciamo metodologie che abbiamo conosciuto. In parte addirittura vedremo, in ogni caso vediamo che attrarre, ingaggiare, deliziare, sono concetti che fanno parte, per esempio, addirittura in gran parte dal sistema da AIDA che, voglio dire, arriva da un secolo fa come strumento. Per cui la grande invenzione è il concetto di ruota e il concetto di poter trovare un qualcosa che sia in grado, almeno in parte, una volta avviato con una certa inerzia, di aiutarci nel marketing, darci nuove idee, darci nuove idee per attrarre nuovi clienti, per attrarre nuovi lead e così via, creando un circolo virtuoso e andando a nutrire tutto quello che stiamo facendo. Attrarre, ingaggiare, deliziare. Sono le trazioni fondamentali che sono le quali la strategia. Si mettono in pratica in realtà tramite una serie variegata di strumenti, canali e momenti. In comune a tutte queste organizzazioni c'è una cosa fondamentale e anche questa viene da lontano. Enrico, qualcuno di voi si ricorderà, content is the king, per cui il contenuto è re, che è imperversato ancora prima dello storytelling, ancora prima, è chiaramente, tra in più manifesto e così via, chiaramente il contenuto diventa un asset fondamentale. Gli asset sono, io lo dico di lead e di prospect che abbiamo, è un asset fondamentale aziendale, va coltivato, curato, potato continuamente e l'altro appunto è il contenuto, il contenuto nostro che possiamo creare e che possiamo andare a utilizzare su questo database. Inbound, in poche parole, è questo. Database e contenuto. Non molto altro, però non è così semplice purtroppo. Dunque, inbound marketing cerca di mettere a sistema una serie di buone pratiche e strumenti mettendo al centro il cliente e i suoi bisogni. È una strategia customer centric, non si parte dal prodotto, ma si parte dall'utente, dai suoi bisogni, dal fatto di andare a delineare quali sono le sue necessità, qual è il suo customer journey e così via. Quello che si tenta di fare è di andare a individuare per le attrazioni, tre azioni fondamentali che noi abbiamo visto, cioè attrarre, ingaggiare e deliziare, quali sono gli strumenti che possono tornare utili. Ne vedremo diverse. Diciamo che la parte altra, la parte di attrazione in cui qualcuno non è ancora mentre il nostro database avviene tramite cose abbastanza tradizionali, ads, video, blogging, che è molto centrale. Quando è nato l'inbound era veramente al centro di tutto, social media in generale è una content strategy. Mentre per l'ingaggio, una volta che è entrato nel nostro database o sta per entrare nel database, ci sono una serie di altri strumenti. Sicuramente, non me ne vogliate, ma io sono attenzionato a quello, le mail marketing in questo caso, le mail marketing insieme a strumenti di marketing automation, che possono passare dalla mail oppure no, sono fondamentali. Ci sono altri strumenti come appunto la gestione del lead, che è una gestione in campo al CRM, che può anche essere fatta di chiamate, che può essere fatta di strumenti classicissimi da CRM, la chiamata del commerciale, ma che devono essere messe a sistema con tutto il resto. Poi ci sono tutto quello che normalmente in buona parte viene dimenticato e che è una grande, una novità sicuramente di questo sistema, che sono gli strumenti per deliziare. Gli strumenti che devono entrare in gioco a sistema e non una tantum per chi è già cliente, per cui smart content, per cui essere in grado di riuscire a creare contenuti nel sito che cambino a seconda dell'utente, quando l'utente è loggato, ad esempio, a seconda della sua tipologia, dei suoi acquisti e così via, l'email marketing di nuovo, l'inbox diretto verso l'utente, per cui la traccia dell'inbox con l'utente all'interno del CRM e dopodiché c'è tutta una parte di analisi, la marketing automation, il fatto di poter andare a fare reportistica sulle azioni che hanno funzionato o no, per poter poi andare a migliorare la mia ruota. Abbiamo parlato di contenuto e rilevanza, che sono le cose fondamentali sostanzialmente nelle cose che ci portano verso il risultato. Il contenuto però dipende, non è un contenuto a sé, il contenuto dipende fondamentalmente ed è correlato a due cose, cioè il spazio, cioè il luogo, diciamo, dove andrà posto il contenuto e il tempo, cioè il timing, il quando questo contenuto viene utilizzato e il quando corrisponde anche verso chi, quando effettivamente il nostro utente non è sempre lo stesso in ogni momento, cambia nel suo customer journey e ha bisogno di un contenuto diverso a seconda del punto nello spazio attento in cui si trova. Amanti di fantascienza, mi consentirete questo piccolo divagazione. Allora, appunto, lo spazio. Quali sono i canali opportuni per il contenuto? Il blog, una newsletter, un post social, una mail transazionale, un podcast, qualsiasi contenuto, un video TikTok, dove lo devo mettere? È importante che i contenuti non vengano sbrodolati in ogni luogo contemporaneamente per il fatto, l'angoscia, e la viviamo anche noi quotidianamente nel lavoro, o verso i clienti, o anche verso noi stessi. Il fatto, l'angoscia, è di avere un contenuto e di doverlo sbrodolare per forza ovunque, istantaneamente, per poi dimenticarcene e lasciarlo perdere. Dall'altra parte, il tempo. In quale fase devo raggiungere il mio utente, come dicevo? Deve essere un utente sconosciuto, cioè è utile nella fase di attrazione? È un vecchio, ha già acquistato, per cui è utile per fare retention, per fare un secondo acquisto, per fare altre operazioni di questo genere, per chiedergli un parere, ad esempio? È un vecchio cliente che non sento da tempo, che non ha acquistato per almeno sei mesi, un anno? È un fan che acquista ogni nostro servizio? Il tempo corrisponde, come dicevo, molto spesso alla fase, in questo senso, per cui non un calendario editoriale è semplicemente basato sul tempo, ma basato sullo stato del nostro database, oltre che sul tempo effettivo. Stabilire, appunto, il giusto nesso spazio temporale ci consente di intercettare le necessità dell'utente, dunque allineare il contenuto agli interessi dello stesso. Il concetto fondamentale che ho sempre ripetuto, anche quando parlavo semplicemente di email marketing, è la rilevanza. L'utente è, noi tutti, siamo bombardati da informazioni, lo diciamo ormai da decenni, da informazioni di ogni tipo e di ogni luogo. Il fatto, come facciamo a saltare fuori da questa massa indistinta? Riuscendo a essere rilevanti, cioè riuscendo a cogliere il momento giusto in cui l'utente sta cercando, anche se non espressamente, quella cosa lì. Per cui riuscire a dargli una risposta a un bisogno, come facciamo? Riuscendo a stabilire un contatto con lui, riuscendo ad ascoltarlo tramite i sistemi che sono appunto quelli sia di analitica, sia di CRM, sia di tutti i sistemi che abbiamo a disposizione per poter fare dell'analisi. Per cui non disturbare, dobbiamo essere un valore aggiunto, il contenuto, prima, durante e dopo l'acquisto, sempre e comunque. Il problema fondamentale, credetemi, questa è una cosa che vale per tutti, il problema fondamentale che si pone sempre è, vabbè, ma dove li trovo questi cavoli di contenuti? Se sono un'azienda che vende cuscinetti a sfera, dove trovo i miei contenuti? Come faccio a diventare rilevante per i miei clienti o per i miei possibili? La risposta più semplice è che il contenuto è dentro l'azienda, prima di tutto, ed è proprio in questo che l'inbound marketing deve riuscire a scardinare la verticalità dei settori aziendali. Deve essere in grado di andare a tirare fuori il contenuto dall'azienda. L'azienda stessa, la sua storia, il suo ruolo è nuova, è un'azienda all'avanguardia, appena nata da tecnologie nuove e quello è contenuto. È un'azienda che invece ha una storia lunga, che è una storia familiare, che ha una storia di decenni alle sue spalle, una solidità, quello è contenuto. I processi sono contenuti. Come viene costruito il servizio? Come viene erogato un servizio? Come viene fatto un prodotto? Senza andare per forza ovviamente nei segreti industriali, quello è un altro paio di maniche, però bisogna anche essere coscienti che quei contenuti sono contenuti che possono fare effettivamente la differenza. Andare a prendere un contenuto qualsiasi ripescato in un altro blog, rimacinarlo con dieci parole, rinvertire le frasi, non è creare contenuto interessante per il nostro utente, non è diventare rilevante, è tutt'altro. Le persone, e questo secondo me è importantissimo, le persone sono contenute. Le persone all'interno dell'azienda, all'interno dei processi, all'interno del laboratorio, con la loro esperienza, sono effettivamente contenute. E per ultimo, badate per ultimo, il prodotto è contenuto. Certamente, dobbiamo raccontargli il prodotto indubbiamente, interessante, ma raccontare semplicemente il prodotto non è particolarmente interessante o non è l'unica cosa che può fare la differenza. Comunque, tutto questo è contenuto e, guardate bene, ci torneremo sopra sicuramente prima della fine, non solo non è facile, ma fare questo processo di recupero del contenuto è estremamente oneroso e deve essere percepito come un investimento. Dobbiamo tirare fuori degli asset, molto semplicemente. Fare le interviste ai dipendenti, magari in video, chiaramente, chi vuole, non costringere tutti, e trovarsi un database di video da utilizzare a spezzoni interi e così via, è un asset. Quello è una cosa che rimane lì e che può anche essere usato solamente internamente per avere memoria dell'azienda. Per cui, quel contenuto ha un duplice valore, ha un valore verso l'esterno e un valore verso l'interno. Sono tutte operazioni che hanno un costo, per cui non è vero che non abbiano un costo, soprattutto in un mondo frenetico di oggi, ma sono tutte operazioni che hanno un estremo valore. Allora, come raffino i contenuti? Per cui, chiaramente, io mi ritrovo in una massa di contenuti grezzi che magari sono fatti da documenti tecnici, da spezzoni di intervista, da articoli che vengono fuori da un giovane volenteroso che si è messo lì a fare delle ricerche e così via, anche qui è fatica. Bisogna riuscire a categorizzare i contenuti, andare in approfondimento, riuscire a tirar fuori i contenuti che ci interessano effettivamente, andare ad approfondire in maniera che non siano quattro frasi, perché il contenuto questo prestito di valore deve essere anche sostanzioso e una volta magari stabiliti questi contenuti, approfonditi, andare anche a produrre dei media, appunto come dicevamo prima, un piccolo video, dei video, delle foto, diversificare, perché le piattaforme sono tante, per cui testi, foto, video, audio, podcast è uno strumento che sicuramente va rivalutato e utilizzato, anche podcast tecnici per intenderci, dedicati magari a installatori che sono parti della indiretta, magari della nostra clientela, comunque che si rivolgono direttamente, o a rivenditori che si rivolgono direttamente alla nostra clientela, sono sicuramente cose utili e importanti che ci fanno crescere tutto quanto. E l'altra cosa è la diversificazione, non incentriamoci unicamente su alcuni aspetti, non raccontiamo solamente il prodotto, non usiamo solamente dei testi, andiamo a vedere quali sono appunto i contenuti direttamente di marketing, i contenuti che raccontano il prodotto, i contenuti che possono interessare, rispondere a domande tipiche di chi cerca normalmente una soluzione che il nostro prodotto può dare e così via, diversificare. E come diventiamo rilevanti? Come diventano questi contenuti rilevanti? Questi contenuti diventano rilevanti quando rispondono a bisogni, desideri e necessità della nostra clientela o del nostro appunto target, dei nostri vari target, delle buyer persone che noi andiamo a identificare. E per fare questo dobbiamo appunto fare un lavoro, per esempio sulle buyer persone, andare a indicare, andare a vedere quali sono le caratteristiche tipiche, magari lavorando su CRM che noi abbiamo già, su clienti che abbiamo già, o su delle ricerche di mercato o quello che abbiamo, andare a identificare delle persone che potrebbero appunto, delle buyer persone che potrebbero identificare appunto i nostri vari pubblici, vedere quali sono i loro tipici o quali vorremmo fossero i loro percorsi di acquisto e andare a vedere quali sono i tipici bisogni, necessità e desideri e vedere quali sono i contenuti che noi abbiamo trovato, che abbiamo in casa, che abbiamo in pancia, che potrebbero essere utilizzati per intercettare quei bisogni. I percorsi appunto di vicimento all'acquisto, i customer journey, giocano un fatto, un ruolo importantissimo in queste strategie e l'altra cosa, l'analisi dei touch point, appunto la modulazione dei contenuti. Allora, chiaramente se noi abbiamo delle buyer, la maggior parte delle nostre persone sono della generazione Z, è chiaro che i touch point sono completamente diversi da invece se noi avremmo a che fare con degli installatori, dei meccanici, installatori di un certo tipo di pompe idrauliche, per esempio. Sono percorsi completamente diversi che hanno touch point diversi. Dalla parte dovremmo investire molto probabilmente più in social, in produzione video o cose di questo genere, dall'altra parte magari invece fare articoli di approfondimento o andare a lavorare su email marketing sulla nostra base di rivenditore potrebbe diventare un'altra, molto più importante e molto più rilevante per il nostro pubblico. Insomma, come dicevo, l'inbound marketing non è che inventa chissà che cosa e soprattutto per partire con l'inbound marketing il lavoro di analisi e di strategia da fare a monte potrebbe essere piuttosto corposo e articolato. vediamo un attimino di andare a pochino più a fondo delle tre fasi dell'inbound marketing. A trarre. In questa fase non so che sia il mio cliente, il mio utente, lo ipotizzo. Uso gli strumenti analitici delle piattaforme appunto per individuare i percorsi di gradimento e clasterizzare, fare clasterizzazione. Queste analisi che, come dicevamo prima e come diceva anche Marco Quadrella nell'appuntamento precedente, sono sempre più difficili ma cambiano il mio approccio al contenuto. In che senso? Chiaramente qui ho delle ipotesi, appunto, se sono stato molto bravo e ho fatto tutto un lavoro su ebay a persona, ho guardato il mio CRM, ho fatto clasterizzazione su mio CRM e così via, posso ipotizzare quali sono i target che io voglio andare a colpire e andare a vedere, per esempio, non so, che articoli di blog fare, quali sono le domande tipiche che la mia base CRM fa prima di acquistare, attraverso anche, parlando con i miei commerciali, ma tutti mi chiedono se i nostri cuscinetti quanti anni resistono. Fare un articolo sulla durata media di un cuscinetto a sfera, magari ci porta, appunto, che è una domanda tipica, ci potrebbe portare, appunto, persone che noi non conosciamo sul blog, posizionarsi bene sui motori di ricerca e andare a intercettare quel tipo di esigenza e quindi dare un contenuto ad hoc sull'esigenza del mio possibile cliente. E chiaramente fare analisi su analitica, andare a vedere quali sono i percorsi, quali sono gli articoli del blog che sono stati più visionati, quali sono, appunto, da quegli articoli dove sono andati poi altrove nel sito, se quando hanno visto l'articolo, magari poi hanno, una volta che hanno pubblicato quell'articolo e corrisposto tre mesi dopo, hanno aumento delle vendite, perché purtroppo rendiamoci conto che i percorsi di acquisto non sono sempre istintivi, possono avere anche dei periodi medio-lunghi e l'inbound marketing in generale lavora sui periodi medio-lunghi, per cui anche le analisi devono essere tarate, almeno per una parte dei business, sul periodo medio-lungo e avere la capacità di lasciare sedimentare un pochettino le cose, cosa che è sempre buona norma quando si lavora, per esempio, in ambito SEO, nel posizionamento, questo che fa parte, appunto, di una delle attività di attrazione del cliente, delle possibili unitri. Una volta raccolto il lead, la conoscenza diventa diretta e questo è fondamentale, attenzione, il contenuto è customizzato, tellurizzato, tagliato sui comportamenti, per cui immagino percorsi e flow di contenuto, adatto il mio contenuto al singolo utente, analizzo e riparto. L'utente, appunto, entra dentro a un percorso che può essere in parte automatizzato e vedremo poi con che strumenti, come e quale ruolo questo contenuto potrà avere, ma deve essere anche, appunto, analizzato costantemente. Magari ho fatto una serie e potrebbe andare a intervenire sulla fase precedente, perché magari ho fatto una serie di lead incredibili con una serie di articoli che mi hanno portato a una delle landing page, che mi hanno portato enormi risultati, ma poi, fatto di vendite, questo ha solo intasato il customer care di tantissime domande, ma la gente non cercava cuscietti a sfera e alla fine cercava olio per i cuscietti a sfera che noi non vendiamo. E questo potrebbe produrre due valutazioni. Uno, il cambiamento della fase di attrazione, per cui andare a lavorare diversamente, produrre contenuti diversi. Due, magari andare a inserire un nuovo prodotto, un nuovo servizio, perché, appunto, il nostro utente ci ha stupito e ci ha portato dentro nuove necessità. In questo senso l'inbound marketing è un percorso, un processo che trasforma, che potenzialmente potrebbe trasformare l'intero processo dell'azienda. È chiaro che non è assolutamente facile, bisogna avere una mentalità molto aperta e delle valutazioni neanche attente, sicuramente. Però è una potenzialità altissima. La parte di delizia, diciamo, del light, è dopo la conversione continuo a curare l'utente. Deve aiutarmi a far girare la ruota, questo è fondamentale. Traccio la conversione per capire quali sono i contenuti che sono stati fondamentali. Immagino nuovi contenuti, riparto nell'azione uno ad uno. Posso chiedere quali sono stati i problemi che ha riscontrato nell'installazione del prodotto, di darmi una mano per un'intervista, se vuole lasciarmi un'intervista. Le azioni possono essere tantissime. Posso andare a arricchire i contenuti oppure magari dargli appunto dei video in anteprima del nuovo prodotto e dirgli questi sono i video in anteprima, puoi usare sui tuoi social. Ancora prima che io li rilasci. E fare in modo che appunto si crei appunto quel senso di di licca appunto di fuoriuscita di informazioni private e che può aiutare a far girare ancora di più la ruota. Canali e automazioni. Come vedete i percorsi sono lunghi e ognuno di queste sicuramente meriterebbe un approfondimento che magari appunto in una prossima edizione andremo, potremmo anche pensare di andare a fare. Canali e automazioni. Vediamo un po'. Allora, il blog è sempre il punto di partenza. Per anni mi sono occupato appunto di un blog che era un blog aziendale sull'email marketing e che era fondamentale in quegli anni, è stato sicuramente fondamentale. Quando è nato il termine inbound marketing, 2005-2006 il blog marketing, il blog, era sicuramente il punto focale. Era tutto quello, tutto girava attorno al blog. Per cui all'epoca sicuro era la risposta corretta. Nello stesso momento rimane oggi una risposta valida, dopo tutta la sbornia da social, rimane una risposta valida ma va contestualizzata. E' chiaro che nel mondo B2B si è visto andare a disperdere le energie in tutti i social, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok, qualsiasi cosa che possa uscire di nuovo, è estremamente faticoso. Normalmente se finisce per rimbalzare lo stesso contenuto o suddividere il budget di advertising, perché comunque il budget di advertising va suddiviso alla fine senza advertising sui vari social, ad oggi difficilmente riusciremo a essere rilevanti e andare a intercettare pubblico, è veramente complicatissimo. Per cui è chiaro che il contenuto come capitale del proprio sito rimane fondamentale anche nel momento in cui andiamo a creare contenuti sui vari social. Quello che io dico è che il sito è chiaramente il blog, il sito rimane un asset aziendale, per cui il contenuto messo lì magari non ci dà nel momento un ritorno immediato, ma può aiutarci a posizionamento, al fatto di diventare anche all'autorevolezza della nostra posizione, perché chiaramente poter dare risposte tecniche, esaustive o di interesse alle domande dei nostri utenti, ci dà autorevolezza e ci pone in un contesto assolutamente di vantaggio rispetto ai contenuti. Nello stesso momento, la creazione del blog deve andare di pari passo con una strategia SEO, ad esempio, precisa ed affiancarsi ad altri strumenti di presenza strettamente web, come possono essere le landing page e le schede prodotto. Chiaramente bisogna stare attenti, ci sono esperti SEO, che sono molto rispetto di me, alla cannibalizzazione delle parole chiave e del posizionamento. È chiaro che per certe parole chiave mi è più utile che si posizioni, per esempio, la scheda direttamente alla scheda prodotto, perché è un percorso d'acquisto sicuramente più rapido che non passare da un blog di contenuto generale. D'altra parte, ho una landing page perché ho bisogno di andare a avere un lead il più veloce possibile per riuscire poi ad attivare un percorso di automation, per esempio. Sono percorsi diversi che devono rispondere a necessità diverse, per cui, per esempio, la necessità di informazione da parte dell'utente. È importante un posizionamento di una pagina del blog di risposte esaustive, per cui l'utente si crei un'opinione e poi vada successivamente, da lunga, andando dopo magari dieci giorni, a ricordarsi del nostro brand. E il brand, appunto, è fondamentale nell'inbound marketing e nel generale valore attorno allo stesso. Per cui puntare sui bisogni dell'utente, dare risposte esaustive, fare awareness e costruire credibilità. Appunto, come dicevamo prima, l'ending page e, per esempio, il marketing sul motore di ricerca è uno strumento sempre di attrazione, più diretto, meno di nurturing, più, diciamo, markettaro da certi punti di vista, in cui, per esempio, sicuramente certi strumenti di automation sono stati principi come Active Campaign o cose di questo genere, hanno lavorato su questo processo di funnel selvaggio. È chiaro che è uno strumento che funziona ancora ad oggi e che si è fatto correttamente. L'unione, appunto, la ricerca di parole chiave che abbiano del valore, che si posizionano correttamente, con l'ending page costruite con accortezza, che possano dare un contenuto di valore, che promettono un e-book, un workshop, un seminario, un webinar, può trasformare in lo sconosciuto, e qui ho perso un pezzo di slide, il contenuto che magari ha già interesse, lo sconosciuto che magari ha già interesse in un lead effettivo. Per cui intercettare i bisogni, puntare a una prima conversione e capitalizzare la awareness costruita con il blog, appunto. I social sono un mare magnum difficile da governare, come dicevo, in cui la parola d'ordine sicuramente è integrazione. Per cui intercettare i bisogni e domandi, sicuramente, LinkedIn, Facebook, Instagram, ma anche TikTok, possono essere tutti strumenti utili, a patto poi di essere in grado di creare contenuti di valore rilevanti. È chiaro che non possiamo buttarci su TikTok semplicemente perché TikTok adesso va di modo, perché il social media manager dell'azienda, gli è venuto in mente che TikTok, di fare i videobook su TikTok sia la soluzione ideale. Per tanti casi può essere sicuramente utile, o fare esperimenti può essere utile per vedere di trovare magari un pubblico nuovo che non ci aspettavamo, a patto che questo sia contestualizzato, sia misurato, siamo in grado di generare contenuti di valore in tono per il social e che siano rilevanti per poi l'utente. In alternativa però, attenzione, possono essere strumenti utilissimi per l'analisi degli interessi di prospect e utenti. Una volta che noi andiamo a capire quali sono le buyer persone, o a immaginarci chi possono essere le buyer persone, possiamo anche andare a vedere cosa fanno queste buyer persone nei vari social. Possiamo andare a vedere quali sono i gruppi Facebook di un certo tipo, andare a vedere chi sono gli utenti, andare a vedere quali sono gli scambi che si fanno, e andare a fare un'analisi appunto di quello che sono le possibilità di nuovi contenuti che magari non abbiamo tenuto in conto e in considerazione. Chiaramente si possono fare investimenti ads, è un strumento utile per fare comunque analisi awards. Come dicevo, stare sui social senza pensare di avere un budget per l'advertising dedicato ai social è molto spesso, può essere, a meno che non abbattere una base di utenti molto molto valida e molto presente, potrebbe essere una perdita di tempo. Chiaramente se il vostro business è invece partito, faccio esempio, ce ne sono, abbiamo conosciuto tanti, partito da un gruppo Facebook, è chiaro che il gruppo Facebook deve rimanere centrale e l'analisi del gruppo Facebook devono essere fondamentali. Ho parlato con un ragazzo a festa quest'anno, un creator, che è partito dal gruppo Facebook, che però si è trasformato in un blog. Il gruppo Facebook continua ad esistere, però è nato un blog, è nato un sito, è nato qualcosa che ci può far capitalizzare il contenuto che viene prodotto, perché purtroppo sappiamo che un altro problema che c'è è che le piattaforme poi fanno dei nostri canali, fanno un po' quel che vogliono e possono decidere di chiuderle o di far sparire il nostro contenuto, bene o male, quando vogliono. Per cui l'importanza appunto è anche di avere, diciamo, un mirror o comunque contenuti web che si possono posizionare per conto nostro che siano aziendali, è fondamentale. Quello che viene dopo. Chiaramente noi abbiamo fatto una prima parte in cui blog, social, al landing page, SEO, SEM, ADV, tramite i contenuti di valore, perché quelli sono alla base, tramite i contenuti di valore, ci hanno portato ad avere dei prosperi. È la prima parte, le funnel in origine, è la prima parte, uno dei punti di ingresso fondamentali della flywheel dell'inbound marketing. A questo punto entrano in gioco gli altri strumenti, che sono CRM, email marketing, automation, chatbot, smart content, SMS, a seconda, veramente gli strumenti possono variare tantissimo da mercato a mercato, da momento a momento, da novità a novità, lo sappiamo benissimo tutti, quelli che erano nel 2005, non lo so, nel 2022. Questi strumenti, appunto i prospect che entrano, diventano essi stessi una parte fondamentale come carburante di questi strumenti, perché sono il database che è già in ingresso segmentato, perché può arrivare, se arriva nella landing page è un conto, se arriva dal social tramite una campagna di social che mi ha portato a fare, per esempio, lead generation diretta, è un altro, se arriva da un commento del blog, un altro ancora, se arriva direttamente da una dv, un altro, per cui sono già di base, a seconda anche dei dati che hanno messo dentro, a seconda, se è un form breve di una landing page, se invece è un acquisto diretto, per cui entrano già con l'acquisto, sono già carburante per definire non solo i target, ma per definire il contenuto stesso e il ruolo dei vari strumenti. Dopodiché chiaramente questi strumenti lavorano per trasformare l'utente in customer, customer che poi ci ridà dei valori, per, di nuovo, carburante, per appunto dare ciccia al nostro processo. Questi strumenti, più o meno gli stessi, poi trasformano questo customer in un promoter e il promoter genera in esso stesso, tramite la sua azione, i contenuti di valore che noi gli passiamo attraverso il smart content, il CRM, l'emare marketing, l'automation, quello che volete, a seconda appunto del suo ruolo, può diventare, e lo dobbiamo stimolare a diventare, esso stesso un promoter, per cui in grado di far girare la flywheel, almeno in parte, per conto nostro, e appunto far girare i nostri contenuti o magari rimiscelare, generare dei contenuti che possono essere utili. Attenzione, attenzione che questa fase è delicata, perché uno può diventare un promoter in questo senso, ma se noi lo scontentiamo, o se noi non siamo in grado di gestire, per esempio, le crisi correttamente, il promoter può diventare anche, appunto, negativo, nel senso, una persona che è particolarmente attiva e che magari è stato fino a quel momento un nostro promoter entusiasta, una campagna, per esempio, Kickstarter, mi occupo anche di campagne Kickstarter ogni tanto, una campagna Kickstarter, se non gestiamo bene la crisi, per esempio, avevamo promesso che il prodotto arrivava entro il terzo quarto del 2022, però non sta arrivando, non gestiamo bene queste crisi, queste che ci hanno fatto da cassa di risonanza potrebbero diventare, nello stesso tempo, una cassa di risonanza negativa. E questo è da tener conto, per cui la cura deve essere non solo nel momento felice, ma anche nel momento di crisi fondamentale, perché altrimenti perdiamo, potrebbe essere che la ruota cominci a girare al contrario addirittura, per cui sarebbe quanto a me controproducente. Nell'emount marketing tutto è contenuto, ma tutto deve essere anche relazione, come dicevo prima, per cui lo sconosciuto che attraverso magari un'interazione con un chatbot che però è fatto bene e poi mette in relazione subito dal chatbot è in grado di passare all'operatore reale a rispondere a esigenze e dallo sconosciuto che tramite una relazione diventa un contenuto, un prospect di CRM. Quella è relazione, relazione che va coltivata attraverso l'azione 1 a 1 fatta dal commerciale, attraverso l'azione automatica fatta, compensata bene, attraverso l'azione massiva della newsletter, ma è tutta relazione, perché alla newsletter il prospect potrebbe rispondere alla newsletter. Se nessuno risponde alla sua interazione che ha avuto con la newsletter, quel prospect, quella relazione è persa. Per cui contenuto e relazione. La flywheel funziona solamente se riusciamo ad utilizzare correttamente le informazioni che volontariamente il nostro utente ci dà e questo diventerà fondamentale nell'ultimo appuntamento, torneremo a parlarne degli zero parti data, i dati che il nostro utente ci dà volontariamente e che è contento di darci, consapevole di darci, che diventano un tesoro enorme per la creazione di contenuti di valore e per appunto la segmentazione. Allora, vediamo un attimo una parentesi sull'automazione. L'automazione, che sia marketing automation, intesa come email marketing automation, ma che sia multicanale, perché l'inbound marketing è di natura multicanale, l'abbiamo visto, e che sia quindi che interagisca con le mail, con gli sms, con whatsapp, con la generazione di link ad hoc, con contenuti smart per l'utente, è un fatto complesso. È fatta principalmente da punti d'ingresso, canari, workflow su comportamenti e valori di contenuti contestuali. Per punto d'ingresso cosa si intende? Allora, l'interazione, l'automazione ha sempre meno male, per forza di cose, un punto d'ingresso. Cioè l'utente fa qualcosa. L'interazione, l'automazione più semplice è il workflow di benvenuto, diciamo, quella è veramente la più semplice, in cui l'utente si iscrive alla newsletter, o si iscrive o lascia la sua lead in una landing page e comincia un'interazione che ogni due giorni gli mando una mail molto semplice. Quello è il punto d'ingresso è ho lasciato i miei dati. Ma il punto d'ingresso potrebbe essere molto più complesso. Ho effettuato l'acquisto e questo è un punto d'ingresso. Ho effettuato l'acquisto durante la settimana del Black Friday, un altro punto d'ingresso. Non ho effettuato acquisti da sei mesi. Oppure, il mio carrello medio ha un valore di 150 euro e faccio un acquisto al mese. È un altro punto d'ingresso. I punti di ingresso possono essere infiniti, per cui le automazioni di base possono essere infinite. E molto spesso è un bel gioco, veramente un bel gioco, immaginarsi percorsi, punti di accesso, catene di valore che possono scatenarsi, i canali che possono essere utilizzati, le mail, sms, whatsapp, entro certi contesti, chatbot, la generazione di contenuti ad hoc, possono essere veramente variegati. E il workflow, e non solo, il punto d'ingresso è un punto. Poi il workflow può cambiare a seconda del comportamento. chiaramente, dopo che un utente, tramite un punto, uno o più punti di ingresso, perché potrebbe essere più punti di ingresso che entrano in punti diversi dello stesso workflow, ad esempio, potrebbe avere comportamenti ad albero piuttosto complessi. Ho mandato una newsletter con due call to action. Quelli che hanno risposto, hanno cliccato sulla call to action possono andare a finire in un ramo del workflow. Quelli che hanno cliccato su un'altra call to action finiscono in un altro ramo del workflow. Quelli che non hanno cliccato proprio finiscono in un altro ramo ancora. Poi quelli che hanno cliccato e dopo una settimana non hanno acquistato possono finire ancora in un altro ramo. Capite che le cose possono farsi veramente molto complicate. Però sono fattibili se ci teniamo e sono estremamente, se ben curate le automation, sono assolutamente, estremamente convertenti. Funzionano molto bene. Però per curarle bene bisogna dare contenuti di valore contestuali e precisi per tutti i workflow. e non è assolutamente facile. Un conto è il workflow del carrello abbandonato. Sono ormai automatismi talmente chiari che quelli non valen... cioè ormai sono... se avete un e-commerce ce l'avete già il carrello abbandonato. È un automatismo che parte in automatico che ha un suo valore che però l'utente è già abituato anche ad avere e che quindi passa anche a un certo punto scontato e non lo percepisce proprio come un contenuto di valore. Un workflow interessante invece è quando l'utente riceve per esempio dopo aver fatto una certa operazione e aver messo nel carrello un certo prodotto riceve per quel prodotto guarda abbiamo visto quel prodotto ti interessa guarda qui nel blog ne abbiamo parlato c'è questo video che abbiamo fatto sul suo utilizzo pensiamo che per te possa essere interessante. Andare a vedere sui click sul video e dopodiché andare a lavorare sul fatto del video sul fatto ti è interessato il video vediamo allora forse se il prodotto non era quello che faceva per te forse sono questi altri prodotti di cui abbiamo parlato nel video che potrebbero essere i tuoi capite che è piuttosto articolata e complicata. Nello stesso tempo la cosa che è ancora più difficile cioè almeno nella mia esperienza personale è ricordarsi della manutenzione di questi workflow lanciamo un workflow che è il perfetto ci abbiamo studiato per un mese e mezzo è assolutamente un workflow perfetto per il nostro che corrisponde a 3-4 punti di ingresso tiene conto dei carrelli abbandonati dell'interesse verso il blog dell'interazione con i social abbiamo contenuti abbiamo trovato i contenuti perfetti una volta testuali una volta video e così via lo lanciamo va benissimo per i primi due mesi poi presi da altro andiamo avanti facciamo altre automazioni facciamo altre cose e quel workflow continua a funzionare magari qualcuno ci entra noi non ce ne dimentichiamo ce ne dimentichiamo e magari anche contenuti che non sono più validi ma che non sono più semplicemente anche contenuti market che offerte che non sono più valide prezzi sbagliati è molto difficile riuscire a tenere traccia di tutti le automazioni che noi abbiamo fatto e di quello che sta succedendo ma va fatto ed è da tenere in conto la manutenzione è fondamentale quello che consiglio è take it slow un approccio incrementale cominciate dalle cose semplici e banali delle welcome series fatte per bene che magari possono avere un paio di biforcazioni con contenuti diversi a seconda dei click ma non cominciate con calma e tenetene traccia per bene andate ad accenderle spegnere qua il caso e non lanciate troppo automation tutti assieme perché veramente il rischio è altissimo di non capirci più niente dunque analisi e segmentazione e qui veniamo appunto anche a un altro dato fondamentale senza dati e senza analisi non esiste inbound marketing scordiamocelo non è che facciamo lanciamo lanciamo una serie di contenuti blog le le nostre i nostri video sui social su tiktok le landing page le ads qualcuno arriva e poi continuiamo a lavorare senza guardarci indietro senza andare a fare un'analisi a fare un'analisi non vuol dire semplicemente contare i lead perché contare i lead è la prima analisi proprio così spannometrica a occhio e spanella come si dice in Romagna nella fase di attract gli strumenti che possiamo avere sono diversi allora possiamo avere google analytics il vecchio ma è ora di parlare del nuovo GA4 che abbiamo visto non è per nulla semplice da configurare e deve entrarci nella mente che ha bisogno egli stesso di un lavoro di analisi e di pre-analisi molto accurata per esempio su obiettivi sui tracciamenti che non sono assolutamente già pronti non sono precotti per nulla la search console che ci dice date interessanti sul posizionamento per esempio del nostro blog ed è fondamentale per andare a studiare appunto se i nostri contenuti stanno intercettando delle intenti di valore che penso che per noi sono di valore o se per esempio stanno portando un elemento traffico che non ci interessa o che non ci porta valore perché sono posizionate semplicemente male i social insight che sicuramente continuano a essere importanti andare a verificare l'interazione andare a verificare quali sono i posti quali sono i contenuti che ci ha i contenuti vedete l'occhio che dico è sempre il contenuto che ha dato valore alla nostra azione perché altrimenti se non riusciamo a capire quali sono i contenuti che danno valore non riusciamo poi a cesellare la nostra azione continua un'altra cosa importante anche se una volta funzionava meglio è il keyword planner il keyword planner di Google Ads sicuramente ci consente di andare a quando facciamo delle di andare a vedere appunto quali sono le keyword sul quale magari fare advertising quali che traffico hanno quali sono appunto i trend qual è appunto anche la concorrenza su un certo numero di parole chiave queste sono tutte analisi da fare costantemente e poi l'analisi della SERP non l'avevo messa scusate ho messo in questa l'analisi della SERP chiaramente nell'intent che abbiamo che abbiamo identificato andiamo a vedere cosa c'è in SERP andiamo ad analizzare se anche i nostri competitor si sono posizionati se sì sicuramente c'è un motivo e magari appunto sarà più difficile riuscire a posizionare i nostri contenuti se no non gridiamo vittoria magari è semplicemente perché non è particolarmente interessante per cui anche quello è sicuramente un'analisi da fare per cui verificare l'efficacia verificare l'ipotesi che abbiamo fatto sulle customer persone non è detto appunto non abbiamo fatto le cose sulle customer persone poi magari queste customer persone che noi ci siamo fatti un'idea che potrebbero avere un certo volume magari invece non fanno quelle ricerche per cui non fanno quel tipo e non riusciamo a intercettarle con i contenuti che abbiamo creato lo studio sui comportamenti nel sito è fondamentale per andare a vedere se poi appunto dai contenuti che abbiamo fatto le visite sono approfondite o se appunto l'abbiamo fatto sia tramite tramite SEO e posizionamento o così via abbiamo fatto delle delle descrizioni che sono forvianti per cui uno pensa sul search intent e uno va sul sito poi non trova la risposta e questo è molto demotivante ed è esattamente ci pone al contrario di quello che noi ci aspettavamo e per cui è molto molto importante poi possiamo possono essere diecimila veramente le analisi fatte in questa fase però è importante il consiglio che do non perdersi nei numeri ma riuscire ad avere un volo d'angelo riuscire a capire per macro aree per macro per contenuti se quello che stiamo facendo sta generando valore lead che siano corrispondenti a quello che noi ci aspettavamo più o meno o magari abbiamo anche delle sorprese contenuto su cui non puntavamo niente che diventa importante andare per esempio a reimpostare budget di advertising e renderlo trainante rispetto alla nostra strategia nelle fasi di engage e delight che sono abbastanza simili continua a essere fondamentale analitis ovviamente perché comunque ci dà soprattutto nella fase di conversione dei punti di vista importanti e ci dà anche appunto come dicevamo tutto tutto il viaggio che fa l'utente all'interno del sito le mail marketing e mail marketing analisis che è fondamentale per andare a capire se quello che stiamo facendo dal punto di vista di newsletter di produzione di contenuti di quel tipo sta funzionando ponete tantissima attenzione non solo le aperture che ormai sono abbastanza a parte che anche lì c'è difficoltà nel tracciamento ma ponete tanta attenzione appunto nei click nei segnali negativi e andare a vedere in analytics le conversioni i viaggi ma anche non solo le conversioni ma il viaggio che l'utente fa quando viene appunto dalla newsletter ancora adesso per quanto sia è uno dei canali che muove di più l'utente comunque sempre comunque l'altra cosa fondamentale è andare a fare analisi sul CRM sul CRM andare a valutare appunto i carrile media andare a valutare il numero di azioni dirette che sono state fatte su certi cluster di utenti andare a fare andare a individuare dei segmenti di pubblico da poi utilizzare sia come punti ingresso per le automazioni sia come punti come pubblici per le mere marketing per cui trovare non so vogliamo trovare il segmento che sono rivenditori che hanno occupato un tot di fatturato negli ultimi anni e fare dei contenuti esattamente per loro facciamoli tiriamo fuori dal CRM vogliamo andare a vedere i clienti freddi che hanno avuto un primo acquisto non sono più non hanno più acquistato e trovare dei contenuti per loro e stimolarli tramite una campagna sms e mail marketing li troviamo nel CRM non li troviamo altrove per cui l'interazione tra la CRM anche in diretta non è detto che dobbiamo usare forse un unico strumento omnicomprensivo come può essere HubSpot ma possiamo andare a interagire con il reparto vendite e capire da loro qual è appunto lo stato e accettare fuori dei segmenti che possono essere interessanti e produrre contenuti per questi segmenti chiaramente se avete un e-commerce stesso ruolo per gli analytics e-commerce e integrazione con sistemi aziendali di vario tipo se non abbiamo il CRM se ci sono gli ERP la fase di prodotto le interazioni possono essere le integrazioni possono essere tante e andare a valutare appunto quali sono le interazioni sul magazzino sulla produzione perché anche la produzione può dirci che se ci sono difficoltà in produzione di un certo tipo di prodotto per cui i magazzini sono vuote inutili è inutile che noi stimoliamo da quella parte lì che magari abbiamo stimolato sei mesi prima se non ci parliamo e l'inbound marketing consiste anche in questo andare a parlare con la produzione capire che appunto in magazzino c'è un certo tipo di materiale consente di produrre contenuti su quello andare a lavorare su quello andare a lavorare con le vendite per stimolare uno ad uno per fare delle automation e così via definizione segmenti definizione obiettivi definizione percorsi di automation e creazione appunto di nuovi contenuti in base a tutti queste cose la creazione di nuovi contenuti dipende come detto in gran parte anche dagli utenti dai lead che abbiamo dall'analisi che facciamo e dalle dai contesti in cui questi vengono vengono contattati dunque capitalizzare il dato prospect da dove viene che azione di contatto ha avuto quali contenuti è stato esposto l'anagrafica le note commerciali ha una mail aziendale tutte queste possono essere utili per definire l'ingresso e l'automation e costruire contenuti customizzati chi è già cliente cosa ha comprato quale è stato il suo ultimo acquisto quale è stato il suo ADV il suo carrello meteo qual è stato qual è la sua grafica di base le note commerciali con quali contenuti ha interagito quali sono i touch point preferiti tutti questi sono dati che noi possiamo tirare fuori a vari livelli dal CRM dall'analitica dai dati che abbiamo nelle marketing e così via per cui tutto questo cosa ci porta modifica automation contenuti customizzati contatto diretto e customer satisfaction sono tutti elementi che interagiscono col contenuto tutti questi vanno a definire il contenuto e nello stesso tempo poi rivanno a definire il rapporto che noi abbiamo con l'utente sto andando avanti ecco customer ok mi si era bloccato dunque i promoters se andiamo chiaramente il pubblico mano a mano si fa più piccolo noi sogneremo che sia un bel imbuto tutto pari però chiaramente non sarà mai tutto pari la parte di promoters sarà estremamente piccola rispetto anche solo ai nostri clienti totali ma è anche molto importante per cui non è detto che l'energia che noi mettiamo nei customer deve essere maggiore per forti di quella che noi mettiamo nei promoters per certi business e per certi contesti potrebbe essere di più vediamo cosa fanno questi rispondono alle nostre newsletter commentano sui social dobbiamo anche individuarli recensissi i prodotti quando noi glielo chiediamo e questi 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 dati possono cominciare a farci pensare se quello può diventare un promoter e allora possiamo andare a indagare qual è la visibilità sui social è magari localmente molto conosciuto non è detto che debba essere per forza a livello internet può essere veramente verifichiamo che a livello è una personalità a livello locale potrebbe essere un promoter per cui contatto diretto contenuti esclusivi invito ad eventi sono tutti elementi che possono essere utilizzati per creare valore e stimolare il promoter a creare contenuti di valore da inserire nella mia flywheel nella mia flywheel e farla girare sempre più agliata in maniera di generare valore allora ci avviciniamo un po' verso le conclusioni di questa carrellata piuttosto impegnativa i dubbi e i limiti io penso che già nella vostra testa si sia fatta una una precisa idea di quale possa essere i dubbi e i limiti nell'applicazione di un di un processo e di una strategia di questo genere l'inbound marketing è costoso è un investimento non semplicemente un costo ma è un investimento ma è all'inbound marketing all'applicazione effettiva dell'inbound marketing corrisponde un effort di analisi un costo degli strumenti e un effort di produzione di contenuti e questo dobbiamo averlo sempre in mente non è che possiamo farlo nei ritagli di tempo perché altrimenti semplicemente non funziona si rischia di buttare via energie e nello stesso tempo di far danno attenzione l'effort di analisi l'azienda deve essere disposta a investire in analisi dei propri processi anche solo per tiratoio dei contenuti e nel caso in alcuni casi rivedere i processi se per esempio normalmente marketing e commerciale non si parlano si parlano poco l'azione commerciale completamente slegata e va per canali suoi utilizzando mezzi suoi e non parla col marketing potrebbe essere un problema l'inbound marketing non si appiccica non è uno strumento che compro va si appiccica e funziona e va pensato e applicato con costanza questo è fondamentale produzione contenuti costa i contenuti devono essere visti appunto l'ho detto più volte come asset aziendale come valore il fatto di avere un blog non può essere visto a fasi alterne non è che posso metterlo lì e lavorarlo tre mesi all'anno dimenticarmene per altri sei mesi fare dieci articoli buttati su tutti in una settimana e poi dopo dimenticarmene ancora no deve essere pensato come un asset aziendale in grado di generare valore anche solo valore storico valore storico di materiale che può essere importantissimo veramente un asset tanto quanto il database di contenuti il database dei contatti dei prospect può essere un valore altrettanto il potere dell'inbound è incrociare due asset fondamentali cioè i prospect i lead con i contenuti incrociare correttamente questi due asset genera l'inbound marketing e genera valore il contenuto deve essere di valore non può essere mettere lo stagista a copiare gli articoli che trova in inglese tradurli in italiano funzionicchia non funziona tanto l'altra cosa è il costo degli strumenti allora un strumento integrato come può essere HubSpot parliamo di HubSpot perché l'ha fatto nascere lui il marketing come concetto ha un costo importante parliamo comunque per un medio business all'anno di migliaia di euro solo di strumento è chiaro che è un costo che è ragionevole se lo utilizziamo in maniera costante in alternativa però non è detto che noi dobbiamo usare lo strumento per forza integrato in questa maniera possiamo coordinare molteplici strumenti se noi abbiamo già un CRM meno avanzato magari old school possiamo provare utilizzarlo congiuntamente al reparto che gestisce email marketing facendo delle esportazioni periodiche fatte con criterio del database importazioni in maniera che tutto sia fatto con criterio è chiaro che anche questo ha un costo un costo di un processo un costo di persone è un processo e per fare lavorare assieme tutti questi vari software sicuramente varie piattaforme richiede anche abbastanza competenze però non è vero che non sia possibile fare inbound marketing senza che sia impossibile fare inbound marketing senza avere un CRM di ultima generazione è possibilissimo o un marketing hub di ultima generazione è possibile ed è fattibile appunto parliamo di strumenti ma un volo veloce gli ultimi 5-6 minuti poi diamo spazio alle vostre domande allora l'inbound marketing al CRM al centro l'abbiamo visto a MR marketing blog sito landing page la SEO SEM automation e altri strumenti la chat e così via strumenti che devono per funzionare correttamente all'interno di marketing devono essere in grado di coordinarsi di essere coordinati e di essere uno sostegno dell'altro o affiancarsi in operazioni che siano parallele è chiaro che tutto questo non è semplice come dicevamo prima allora l'alternativa oddio è morto ecco siamo tornati l'alternativa appunto è un CRM inbound oriented allora è nato chiaramente è stato fatto prima Halfspot Halfspot è sicuramente un CRM di ottima qualità in questo senso molto impegnativo per essere come dicevo anche dal punto di vista dal punto di vista del costo ma non tanto diverso dagli altri e che mette al centro il CRM per poi costruire tutta una serie di punti di punti di interazione le mail marketing le automation e così via e può essere sicuramente un'alternativa ce ne sono altri c'è Salesforce c'è Insightly c'è anche ZOO CRM ZOO nasce appunto come altro come customer care ma appunto è andato anche lui nell'ottica di integrazione dello strumento sono tutti strumenti integrati allora sono tutti molto belli ognuno ha i suoi pregi i suoi difetti al di là del costo la cosa fondamentale però che hanno è che ci costringono a un'adesione più o meno totale il che può essere uno svantaggio notevole nel senso che nessuna azienda a parte se non siate una start up nel caso appunto potete decidere chiaramente una azienda media strutturata mediamente strutturata ma anche piccola avrà un suo CRM avrà un suo prodotto avrà dei prodotti diversi che utilizza con dei processi diversi andare a sostituire questi processi può avere un costo molto più alto della piattaforma stessa e potrebbe anche poter significare una revisione totale dei processi questo potrebbe essere male sicuramente allora l'inbound marketing può essere visto come forma mentis cioè una possibilità di integrare le soluzioni esistenti facendoli interagire costruendo flussi che abbiano al centro l'utente e il contenuto per cui il CRM può essere il CRM aziendale old style anche Excel spero di no per voi però qualcosa di questo genere per email marketing per esempio anche Aruba Business stesso ha uno strumento conosco bene quello strumento anche per vari motivi ha uno strumento di email marketing estremamente semplice ma estremamente efficace e se usato correttamente può dare risultati ottimi e anche statistiche che email marketing di altro livello non hanno peraltro di altissimo livello non hanno per cui statistiche ci consentono di fare delle analisi anche piuttosto fini per il sito Wordpress Ghost Drupal avete ancora Drupal avete altri siti tutti questi possono permetterci di avere di avere un blog di coordinarci poi con l'email marketing attraverso dei plug-in o altro di fare appunto lead generation attraverso altri plug-in per le analisi posso avere Search Console posso avere per fare SEO Sam Google Ads qualsiasi tipo di questo di questo strumento di questo genere e nello stesso tempo per fare delle landing page posso usare i plug-in Wordpress posso usare il 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 CMS del mio sito posso usare l'in page posso usare altre cose per fare automation ci sono mille strumenti il campaign è uno che ho citato ma ce ne possono essere tanti altri insomma possiamo veramente tentare dobbiamo tentare di capire l'inbound se ci aggrada come formamenti perché è la in poche parole è contenuto di valore costruito sui sull'utente e sulle necessità dell'utente andare a interagire con la relazione con l'utente attraverso il contenuto di valore l'inbound marketing è questo non è altro allora io questa ora è un quarto di carrellata direi che ho finito vediamo un attimo se ci sono domande potete farmele tranquillamente chiedo chiedo anche alla piattaforma se funziona tutto se vede domande seppure non ci sono domande altrimenti vado avanti io con qualche ah ecco ecco una domanda che mi viene è appunto quali sono quali sono gli effettivi cioè è vero che l'inbound marketing è costoso qual è appunto il costo effettivo e quando può essere messo in campo diciamo a quale scala a quale scala di prezzo a quale scala di impegno può essere messo in campo nel senso è necessario veramente rivedere tutto da capo secondo me è un buon modo per entrare nell'inbound marketing e riuscire a ad avere una prima visione se questo può fare per noi è cominciare a ragionare su il costo che può che può che può quanto può costarci a termini di effort proprio aziendale costruire dei contenuti il contenuto deve essere il punto di partenza fare una prima ragionamento se il contenuto se per noi creare del contenuto di valore è un costo troppo alto se siamo troppo impegnati se non c'è nessuno che può metterci veramente la testa e a quel punto se la risposta è negativa rimandiamo l'inbound marketing se non abbiamo contenuto di valore se siamo in grado di produrlo con una certa costanza non possiamo neanche pensare a fare inbound marketing se la prima risposta è positiva allora va messo in piedi un primo una prima analisi su quei contenuti che noi che noi che noi possiamo possiamo effettivamente costruire e andare al tenere delle aziende costruire questi contenuti a quel punto una volta fatti i contenuti per cui farei passare un mesetto un mese e mezzo per creare un primo batch di contenuti a quel punto andare a lavorare per costruire un calendario editoriale semplicemente per posizionare un blog e vedere quello che sta succedendo nello stesso tempo riuscire nel blog andare a vedere se una sezione di commenti è quella che può essere utile o se semplicemente alla fine del blog mettere un'iscrizione a una newsletter già questo può sembrare una stupidaggine è veramente il primo embrione ma può essere utile a generare appunto una prima catena di valore andare a vedere se la produzione di contenuti per esempio ha avuto effetti sul traffico al sito se ha avuto effetti sul posizionamento su certe parole chiave che ci erano immaginati se ha avuto effetto sulla lead generation e ha avuto non so iscrizione nella prima newsletter a quel punto è opportuno fin da subito andare a pensare cosa scriviamo in questa newsletter o come agiamo uno a uno con questi contatti se sono pochi andiamo a vedere se è opportuno fare un contatto uno a uno andare a vedere se è opportuno mandare magari un piccolo un piccolo ebook con dei contenuti di valore e andare piano piano con piccoli step i piccoli step però non devono essere isolati se mi do tre mesi per valutare questo tipo di lavoro se questo lavoro ha dato un minimo di spinta bisogna che poi cominci a implementare il seguito un seguito che può essere appunto fatto di automation di contatti uno a uno e di continuare appunto nella produzione di articoli per esempio per il blog o per i social chiaramente partire in piccolo ci consente di andare ad agire sempre sempre più in grande ecco non aspettatevi se partite in piccolo che i risultati siano enormi non esiste piccolo effort grande risultato esiste piccolo effort risultato adeguato e niente niente quindi per il momento se non ci sono altre domande è tutto io vi lascio vi ricordo i prossimi appuntamenti i prossimi appuntamenti saranno il 30 novembre con strumenti gratuiti powered by google sicuramente interessantissimo da parte di Giorgio Taverniti per cui la possibilità appunto di interagire con strumenti di vario tipo gratuiti e come farli lavorare assieme Giorgio è sempre fonte di conoscenza che è imprescindibile per cui consiglio a tutti di seguirlo 18 gennaio parleremo sempre con Giorgio di PR e digital PR c'è molta confusione anche in questo ambito e come fare a interagire un confronto parallelo tra il mondo classico delle PR e il mondo diciamo che ha avuto alti e bassi in questi anni delle digital PR frutto parallelo molto molto interessante e poi per finire il 15 febbraio tornerò io con cose sicuramente un pochino più noiose rispetto alle digital PR ma fondamentali per capire dove andrà il digital marketing nel prossimo anno e mezzo anno e mezzo per cui capire il ruolo di first party data e zero party data nelle nostre strategie per il momento è tutto io vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dato e ringrazio Aruba.it per aver pensato business per aver pensato a questa digital school e ci vediamo al prossimo appuntamento grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti